La partecipazione di percorsi sulla condivisione, uno sforzo particolare sulla trasparenza e ci troviamo appunto dopo tutto questo periodo a gestire una buona prassi che ormai si è consolidata che sono appunto le preassemblee. Sì, le preassemblee nascono ormai da più di cinque anni fa, è uno strumento che usiamo ormai tutti gli anni prima dell'assemblea di maggio per appunto legata a uno dei tempi importanti della cooperativa che è legata al bilancio, quindi le partite connesse al bilancio. Anche questa sera ci confronteremo su due grandi aspetti, uno è sempre i ristorni visto che visto l'andamento del bilancio ci sarà una piccola contrazione, vogliamo spiegarla bene ai soci e lavoratori perché poi chiaramente c'è un'aspettativa anche corretta visto gli ultimi anni e gli ultimi utili che ha fatto la cooperativa e quindi c'è un'aspettativa alta anche sulla quantità dei ristorni, oggi spiegheremo quant'è la quantità e anche i criteri che il Consiglio di amministrazione ha utilizzato per definirne l'importo totale. L'altro aspetto perché proprio leggendo il bilancio c'è la contrazione dei lutte è dovuta all'aumento dei costi soprattutto per uno dei grandi settori che dopo il personale ha la nostra maggiore spesa che è quella dei mezzi. Quindi faremo supportati da anche il nuovo amministrativo Daniele, abbiamo preparato una simulazione gioco ma con dati reali per far comprendere a tutti i soci e i lavoratori la parte micro, cioè quanto costa una singola operazione, da quanto costa cambiarci un paraurti o un set di gomme o uno specchietto. Al macro puoi vedere quanto c'è costato le riparazioni del 2017 e l'andamento ahimè già diciamo peggiore dell'inizio del 2018. Chiaro che sui mezzi c'è tanto da lavorare ed è dopo appunto come dicevo il personale il nostro maggior costo e va comunque tenuto sempre più sotto controllo e va dedicata un'attenzione particolare da parte di tutta la cooperativa. Rispetto a questo percorso fatto quest'anno come ti sono sembrati i lavoratori? Sono reattivi, capiscono la responsabilità e il valore di questo gesto di trasparenza che la cooperativa fa ormai da tempo? Sì, adesso voglio dire organizzando la preassemblea sotto l'assemblea anche l'anno scorso abbiamo detto chiaramente che due momenti non si escludono ma vanno a completarsi. Speriamo oggi c'è stata una buona partecipazione come negli altri anni, speriamo che questa partecipazione sia confermata anche nell'assemblea di mercoledì prossimo. Grazie a tutti!